Mondialpol è una società che ha una grandissima storia, una lunghissima storia e non ha mai smesso di investire nelle risorse. Il gruppo Mondialpol è presente quasi su tutto il territorio nazionale e è una famiglia per i lavoratori. Li prende e li fa crescere, investe continuamente nella loro formazione, gli dà possibilità di crescita professionale. Ho visto all'interno di questa azienda persone crescere dai livelli più bassi fino ad arrivare a importanti livelli di coordinamento. Mondialpol è un marchio conosciuto e si vede dalla divisa, ma non è solo la divisa quello che caratterizza l'agente Mondialpol. L'agente Mondialpol è il miglior attrezzato, ha le più moderne attrezzature disponibili. Questo per consentirgli ovviamente di fare al meglio il suo lavoro, ma anche per garantirgli sicurezza, per fare in modo che svolga il suo lavoro nel modo più sicuro e protetto possibile. Abbiamo dotazioni di ogni genere, abbiamo i migliori furgoni, le migliori autovetture, ci stiamo puntando al verde, alle autovetture elettriche, ma non solo, abbiamo anche una tecnologia che nessun altro istituto ha, le body cam, con cui l'operatore può essere sicuro del lavoro che compie ed è sicuro di non commettere errori. Quindi posso dire che questo gruppo sta investendo tantissimo nelle tecnologie, in qualsiasi strumento che possa migliorare e rendere più sicura l'attività dei lavoratori. Mondialpol ha estremamente cura dei propri dipendenti e collaboratori ed è una caratteristica immediatamente percepibile da numerosissimi aspetti. Io considero il principale l'investimento sulla formazione. Tutti gli anni noi facciamo in ogni singolo settore dei piani di formazione dedicati al personale di qualsiasi livello che ci consenta di crescere assieme al nostro personale. Quindi non consideriamo i nostri collaboratori degli elementi dell'azienda ininfluenti, ma sono parte essenziale della crescita che la società assieme ai propri collaboratori cerca di fare giorno dopo giorno. La possibilità di crescita professionale all'interno del nostro gruppo è vastissima, ma davvero vastissima. È difficile delinearne i contorni perché in realtà operando su così tanti ambiti e su una così vasta copertura territoriale, davvero chi dimostra capacità, voglia di mettersi in gioco e desiderio di apprendere e di crescere assieme, ha tutte le chance per poter crescere con noi e affrontare sfide sempre diverse. Credo che sia uno degli aspetti più interessanti della nostra società perché c'è un continuo stimolo, quindi le persone sono continuamente stimolate ad applicarsi e a trovare nuove soluzioni che sempre vengono considerate e si affrontano assieme per verificarne l'attuabilità e l'efficacia. È davvero un'azienda che cerca al proprio interno dei talenti e desidera svilupparli. Per un agente mondia, poi, avere alle spalle un'azienda come questa rappresenta non solo conoscere nuove tecnologie, ma soprattutto usarle per poter svolgere al meglio il proprio lavoro. Parlando del mio settore, che è la centrale operativa, ad oggi ci sono tecnologie molto avanzate, tra cui un software di ultima generazione che abbiamo acquisito da poco, che ci permette di vedere in tempo reale, a seguito di una segnalazione di allarme, cosa succede e ciò che ha causato lo scattare di quell'allarme. Quindi ci permette di dare al cliente sicurezza, efficienza, allo stesso tempo poter svolgere al meglio il proprio lavoro. Far parte di un gruppo come Mondialpol è un po' l'obiettivo di tutte le persone che aspirano di fare le guardie giurate o che sono già nel mondo delle guardie giurate. Il perché è perché è un'azienda solida, che ha dimostrato professionalità negli anni e soprattutto ha un'organizzazione alle spalle che permette di espletare il lavoro in maniera professionale. Non può mancare il senso di responsabilità e di attenzione perché è un lavoro molto difficile, soprattutto i primi tempi. Non bisogna scoraggiarsi se i primi tempi si fanno degli errori perché ovviamente in qualsiasi lavoro può capitare. Ma col tempo, quando prendi la sicurezza del lavoro, diventa anche molto bello come lavoro perché ti dà delle soddisfazioni. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.